buona giornata bentrovati siamo a mercoledì 20 ottobre adesso andiamo a seguire come sempre segno per segno dall'arieta ai pesci l'oroscopo ariete potrebbe ritornare in discussione una proposta di qualche tempo fa ciò che credevate di avere definito invece si riproporrà con toni molto più accattivanti se la cosa vi alletta fatevi consigliare dal vostro intuito che in questi giorni è particolarmente brillante e concreto toro una giornata che parte molto tranquillamente e su toni decisamente pacati non vi farà minimamente pensare a qualche repentino cambiamento invece un certo tono di voce un certo sguardo un certo profumo vi manderanno praticamente ko eppure si tratta di una persona che conoscete già gemelli oggi il vostro atteggiamento risulterà troppo alterno per passare inosservato e tantomeno per essere tollerato riuscirete a trattare chi vi sta intorno in certi momenti benissimo in altri malissimo il tutto senza mezzi termini cancro oggi non vi sentirete contenti eppure probabilmente non c'è alcun motivo per sentirvi così insoddisfatti ma è come se vi mancasse qualcosa per essere perfettamente a posto e continuerete a rimuginare su questa sensazione senza riuscire a venirne a capo leone sarete disponibili a quel chiarimento che vi verrà dato ma lo farete per pura cortesia in effetti non vi interessano le parole di quella persona ma farete sicuramente di tutto per non farglielo capire vergine vitalità ed ottimismo vi regalano momenti di entusiasmo vi sentite molto aperti nei confronti di tutti e siete disponibili a chiacchierare senza mai fermarvi a valutare come con chi e di che cosa state parlando non dovete fraintendere certe parole bilancia incontrerete un personaggio nuovo che desterà in voi da subito forti dubbi sulla sua sincerità è probabile che siate vittime delle vostre stesse paure e che l'ansia vi faccia immaginare cose non vere meglio una serata tutta casalinga dal sapore di cose semplici e tradizionali che un'uscita fuori casa chissà dove scorpione la giornata si presenta alquanto movimentata soprattutto se siete in attesa di qualche interrogazione o di cambiamenti nel lavoro più che sentirvi pronti a morderla la situazione avrete la sensazione di doverla subire e questo non vi piace affatto sagittario oggi potrete raggiungere e definire ciò che avevate lasciato in sospeso in attesa di una maggiore chiarezza di idee e soprattutto di maggiori certezze i rapporti con gli altri saranno improntati su tanta cordialità e tanta voglia di scherzare ottima la forma fisica grande entusiasmo capricorno una persona accanto a voi dimostrerà chiaramente il suo stato di paura aiutatela infondendo le più fiducia e offrendole la vostra comprensione vedendo voi così determinati e sicuri si sentirà subito meglio e spronata a reagire acquario oggi vi sentite piuttosto strani avete la sensazione di sentirvi improvvisamente limitati di non poter essere all'altezza di certe situazioni in realtà il limite è un preciso contorno nel quale vi siete rinchiusi per una forma di pessimismo pesci non potrete molto contare sulla vostra capacità di chiarezza mentale in effetti davanti al problema tendete a drammatizzare vi sarà difficile uscirne con qualche soluzione soddisfacente controllate maggiormente la vostra sensibilità nessuno voleva offendervi o mancare di tatto nei vostri confronti facendo quella certa affermazione